cittadini del bar uccisi in italia nel 2011 la pena del pirata della strada annullata la corte di cassazione di roma ha dichiarato mercoledì il ricorso del pirata della strada albanese il il beti fondato questi era stato condannato a 21 anni di prigione per omicidio volontario avrà luogo un nuovo processo la corte di cassazione di roma merita bene il soprannome che le hanno dato gli italiani palazzaccio palazzo cattivo perché ci sono stati spesso delle perché ci sono state spesse vi si sono verificate spesso delle ingiustizie secondo il popolo mercoledì sera poco avanti le 9 nella capitale italiana subito dopo il ritorno nel bar delle famiglie e dei familiari di odry elsa julienne ben so la corte di cassazione della capitale italiana ha dichiarato accettabile ricevibile il ricorso di il beti e del suo avvocato franco coppi che è lo stesso lo stesso difensore di silvio berlusconi ed ha annullato la sua condanna a 21 anni e 6 mesi di prigione rileggere ok tutto pertanto questo imprenditore albanese era stato riconosciuto colpevole d'omicidio volontario per aver provocato la morte di questi quattro amici di infanzia di bandol e di sanary sir di sanary su un'autostrada italiana nell'agosto del 2011 era stato condannato una prima volta davanti al tribunale d'alessandria ed una seconda volta davanti alla corte d'appello di torino pertanto le famiglie e i familiari i genitori delle vittime del va del var potevano legittimamente considerarsi ottimisti alla fine della giornata di mercoledì hanno veramente beneficiato di una mobilitazione impressionante nel corso della mattinata passata davanti alla corte di cassazione romana assolutamente fiduciosi non meno di dieci rappresentanti di associazioni italiane di vittime della strada li avevano raggiunti oltre a roberto rocchi dell'asaps claudio martino della ifbs e alfredo giordani vivi in strada già a loro fianco martedì c'erano ugualmente lì lisil filippo angeli sull'asfalto michele citarella italia vera francesca pagano matteo la nasa pietro bono marco pietro bono giuseppe bruno vittime della strada 16 giuseppe grieco associazione mamma e coraggio e vittime della strada e last but not least domenico musico presidente di un'associazione ma anche soprattutto avvocato il cui diciamo la battaglia principale la cui battaglia principale è il riconoscimento dell'omicidio volontario stradale quest'ultimo si era mostrato cioè l'avvocato musico si era mostrato assolutamente fiducioso ci vorrebbe un errore di fondo a perché la corte di cassazione non conferma i giudizi di primo grado e di secondo grado e io non ne vedo alcuno di questi errori un vero colpo di clava i parois beneficiavano ugualmente di un altro sostegno e che sostegno con il presidente della corte di cassazione di roma in persona giorgio santa croce giorgio santa croce si era in effetti espresso contro il ricorso di dirbeti aveva ricordato roberto rocchi senza dimenticare la presenza senza dimenticare la presenza l'onnipresente presenza l'onnipresenza anche di elisabeth tesson dopo aver ricevuto questi compatrioti il giorno prima la console di francia a roma non non si è limitata ad inviare christine luiz responsabile del servizio sociale del consolato ad assistere a quest'udienza a porte chiuse ci è andata anche lei stessa i dibattiti i dibattimenti le discussioni sono state incentrate sull'intenzione di uccidere sul carattere preintenzionale coniugati con la volontà di uccidere e la corte di cassazione ha seguito il ricorso sul carattere volontario lei testimonia è la triste realtà ma la condanna di dirbeti è stata annullata e sarà giudicato con dei fatti riqualificati come omicidio involontario tutti noi siamo sotto shock confida ive renard padre di odre nessuno si attenteva un colpo simile un vero colpo di clava ma noi non abbasseremo le braccia non ci arrenderemo questa era una ricorso corrispondenza del bar martin bar martin scusate cioè che il giornale locale del bar il cui corrispondente ha accompagnato personalmente questi questi genitori insomma questa delegazione